Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Si va verso un nuovo decreto sostegni. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Sono previsti i sostegni immediati e i settori che sono stati più colpiti dalle chiusure invernali come il turismo e le discoteche, ma senza lo scostamento di bilancio. Almeno per ora, secondo quanto sia appreso da delle fonti del MEF, il nuovo decreto sostegni verrà finanziato con i fondi già messi a disposizione e non prevede in questa fase di chiedere al Parlamento una nuova deviazione dal deficit. Complessivamente, in ogni caso, il fondo dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi di euro. In ogni caso, i partiti di maggioranza stanno incessantemente chiedendo più risorse. Draghi avrebbe intenzione di portare sul tavolo del Consiglio dei Ministri già giovedì alcune novità. Da lunedì partirà il lavoro sul provvedimento e entrerà nel vivo per mettere in fila tutte le varie situazioni e criticità necessarie per risanare i settori più colpiti. Come dicevamo, la stima è di circa 2 miliardi di euro, ma secondo i partiti di maggioranza è troppo poco. Bisogna fare di più, aggiungere risorse come quelle destinate al taglio delle bollette, rifinanziare la CIG Covid e la quarantena come malattia. Alcuni partiti chiedono uno stanziamento di 10 miliardi di euro come fondo e c'è chi spera addirittura a 20, ma l'ipotesi più papabile è che ne vengano stanziati 5, dunque uno scostamento di 3 miliardi in più rispetto al fondo attuale. Vedremo dunque che cosa accadrà in merito. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!